Rieccoci cari amici alla scoperta del ristorante La Torre di Racconigi. Dove è Racconigi? Ve lo stiamo raccontando, ve lo stiamo dicendo, usciamo dalla città di Torino, prendiamo la statale per recarci in provincia di Cuneo, appena finisce la provincia di Torino e inizia la provincia grande, questo gioiello di enogastronomia, storia, arte, cultura, che è la provincia di Cuneo, troviamo Racconigi, una delle perle più straordinarie della corona di delizie della famiglia Savoia con i suoi castelli bellissimi. Proprio qui vi è un castello importante che negli ultimi anni, lo abbiamo detto in questa nostra puntata, ha vissuto e sta vivendo un momento di rilancio. Ovviamente attorno al castello di Racconigi sono sorti e stanno sorgendo tutta una serie di piccole chicche, piccole perle che allietano il turista più esigente, il turista più significativo che non ha solo voglia di fare un mordi e fuggi nella parentesi di storia e di arte, ma che vuole anche vivere una parentesi, una pagina di territorio. Uno di questi ristoranti, forse il più significativo che incontriamo sul territorio di Racconigi, è il ristorante La Torre di Carlo Focco che incontriamo qui questa sera. Stiamo vivendo assieme a Carlo la serata del suo ristorante, abbiamo cominciato a vivere alcuni piatti del suo menù. Da Carlo vorrei innanzitutto un saluto e una prima definizione. Qual è la filosofia del ristorante La Torre di Racconigi? Beh, intanto buonasera, con una parola sola, passione. Passione per la storia della cucina e la voglia di riportare in auge i sapori di una volta con prodotti semplici, freschi, genuini e il più delle volte preparati da noi in casa. Da quanto lavorate alla Torre e quali sono le tipologie del menù che presentate ai clienti e che possiamo raccontare agli amici di sapere i sapori che ci seguono da casa? Beh, noi siamo qua dal 2008 praticamente e già dall'inizio è stato un inizio, scusate la ripetizione, di volontà di riportare un misto di piatti storici e tradizionali. Si basano più che altro sulla cucina del territorio, con prodotti locali, di ricerca e in più abbiamo approfondito tutto questo argomento riprendendo ricette di casa Savoia, anche dato il castello qui vicino a noi. E alcune ricette vengono riproposte in maniera tale e originale come erano appunto una volta, altre vengono rivisitate in modo da aggiornare qualche sapore ormai diciamo così dimenticato e forse un po' difficile. Cerchiamo sempre di dare un giusto mix nel menù che noi proponiamo mensilmente, quindi varia tutti i mesi, di dare appunto un giusto mix di piatti storici e tradizionali comunque di ricerca del territorio. Quindi una caratteristica nel complesso assolutamente di cucina del territorio, ma anche un'attenzione per quello che è la stagionalità dei prodotti. Sì, assolutamente sì, personalizziamo sempre anche il menù e appunto i piatti e ogni tanto ci permettiamo qualche, diciamo così, asterisco, inserendo qualche piatto fuori regione o comunque di mix di prodotti locali e non, ecco. Ecco, è arrivata in questo momento la nostra Elisabetta, proseguiamo la nostra cena al ristorante La Torre, che cosa stiamo vedendo in questo momento? Abbiamo dei bocconcini di lonza di maiale stracotta al forno con prugne e latte. Bene, grazie ad Elisabetta. Torniamo al nostro Carlo, lo chef e l'anfitrione di questa piccola perla nel cuore di Racconigia della provincia grande. Quali le iniziative del ristorante La Torre? Che cosa ci possiamo aspettare nella stagione a venire, nei prossimi mesi? E quali i piatti che avrai intenzione di preparare? Allora, sui piatti un po' di segreto, ma nel senso molto stupido della parola. Stiamo cercando nuove ricette storiche e stiamo cercando invece di riproporre in maniera alternativa le ricette già proposte in passato. Per quanto riguarda l'anno e comunque l'avvenire, stiamo cercando di riproporre serate a tema storico con menù totalmente medievali e comunque del passato. Cercheremo di rifare qualche serata in costume, come già si faceva in questo locale in precedenza. E in più faremo serate tematiche con verticali di sapori e di piatti appunto della zona. Inoltre, questo è un discorso un po' più forse per il futuro, stiamo cercando appunto collaborazioni per quanto riguarda altri gruppi, altri cuochi che hanno questa passione come me dei piatti storici per fare anche serate a quattro mani e perché no un mix anche di piatti di fuori regione in modo da associare queste cose insieme. Io sono certo che sicuramente gli amici che ci stanno seguendo da casa si stanno ponendo la stessa domanda che mi sono posto io prima di cominciare la nostra chiacchierata. Tante iniziative, tanta volontà di andare avanti, tanto stimolo. Carlo, quanti anni hai innanzitutto? Io quest'anno ne faccio 29, anzi, li ho fatti un mesetto fa 29. Questo, amici che ci seguite, è sicuramente uno degli esempi di quelle che sono le caratteristiche del nostro territorio, la capacità di sapersi inventare, di sapersi costruire un futuro e di saperlo trovare nelle proprie mani. Io da Carlo, però adesso che stiamo continuando la nostra chiacchierata, vorrei qualcosa di particolare, vorrei vedere qualcosa di pronto da te. Andiamo di là e facciamo un piattino veloce. Seguiteci in cucina. Allora Carlo, che cose ci preparerai in te e che cose ci preparerai questa sera? Beh, facciamo un piattino molto veloce, molto semplice, ma molto saporito. Questo è uno di quei piatti che diciamo appunto prima, mix fra prodotti del territorio come le nocciole di langa e il pesce San Pietro, il pesce con l'occhio, diciamo così. Cominciamo pure. Facciamo subito, mettiamo un po' di olio, io uso sempre mosto extravergine di oliva, usiamo un po' di olio in padella e iniziamo a metterlo subito sul fuoco per scaldarlo. Intanto ci prepariamo il pesce, in questo caso io ho già sfilettato un pesce appunto San Pietro, ho tolto anche per quanto riguarda tutte le varie lischi in modo che sia già subito pronto da mangiare. L'olio è caldo quindi ci portiamo avanti con il lavoro facendo cuocere sempre prima la parte della pelle, in tutti i pesci, non soltanto in questo caso. La cottura inizia abbastanza velocemente, aspettiamo un attimino a salare il tutto, poi andiamo con il sale e il pepe. È un piatto molto veloce che si riesce a far saltare in cucina anche in pochi standi. Sì, è un piattino molto veloce, molto semplice, ha una cottura diciamo nell'arco dei 5-6 minuti il piatto si può fare e mangiare caldo. Volendo si può anche mangiare freddo, quindi non è un alcun tipo di problema, è un piatto di quelli semplici ma molto veloce anche da fare per i pranzi. Andiamo a salare appunto, io amo il pepe quindi in questo caso lo metto, non è mai d'obbligo assolutamente. Lasciamo appunto la cottura del pesce come ho detto prima che è molto molto veloce, quindi la seguiamo sia con gli occhi che con qualche attrezzo appunto per la cucina. Intanto che il pesce cuoce da una parte posso già girarlo, lo muoviamo ogni tanto alla padella, c'è chi lo fa come noi con le mani, chi vuole usare appunto qualche attrezzo, non è alcun tipo di problema. Qui volendo c'è chi bagna con il vino bianco, viene poi fatto sfumare, in questo caso non lo voglio fare, voglio lasciarlo più semplice possibile, quindi lo giro normalmente in padella. Abbassiamo il fuoco e lo spegniamo perché il pesce è praticamente cotto. A me piacciono le cotture abbastanza veloci in modo da lasciare intatti i gusti e i sapori appunto oltre che le proprietà nutritive. Un po' di insalatina, io uso della valerianella, anche qui usiamo un po' di olio, sempre mosso taggiasco, sale e pepe. Aggiungiamo infine le nostre nocciole nella padella in modo che prendano un po' di calore. Queste sono già state tostate in precedenza, altrimenti uno può farlo anche tostare durante la preparazione, prima di mettere appunto il pesce in cottura. Quindi anche la tonda gentile viene cotta? Sì, 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 assolutamente sì, viene cotta, può essere fatta tostare prima in forno oppure usata direttamente poi nella padella come ho fatto io. Ancora un po' di nocciole sulla nostra insalatina, sul nostro cuscino appunto di insalata. Rimettiamo appunto il pesce sopra. Infine condiamo con un aioli a base di aceto balsamico e tuorlo d'uovo. In questo caso io me l'ero già preparata, è un'emulsione fredda, molto semplice da fare, molto veloce. Anche qui un po' di sale e un po' di pepe. È pronta, quindi andiamo a decolare sia il piatto sia a dare un po' di sapori in più, un po' di contrasto di sapori e di colori. Io, diciamo così, finisco il piatto con un pezzettino di pomodorino essiccato in forno. Il piatto è praticamente molto semplice, pronto e anche bello anche da vedere. Assolutamente sì, una bellissima creazione, un grazie a Carlo. Ma vediamo adesso la nostra Federica. Federica, che cosa ci proponi? Guarda cosa ti ho trovato. Questi sono, se non sbaglio, i vecchi menù del ristorante che rinterpreta le antiche ricette del castello di Raconigi. Sì, avete scovato e trovato appunto la mia passione. Questi sono alcuni esempi, appunto, la prova concreta di questa mia volontà di proporre appunto i piatti storici ci sono appunto una serie di menù storici dal 700 in avanti, tanti sono menù di feste e di giornate di Casa Savoia e alcuni sono appunto esempi di serate che noi abbiamo proposto in passato e che li faremo a breve. Un ultimo saluto prima di andare a chiedere informazioni agli amici, ai clienti del ristorante La Torre sul menù di questa sera ed è uno scoop per gli amici che ci seguono. Prima a sapere i sapori, prima che non su Sky e i grandi canali internazionali, siamo noi che presentiamo i famosi menù della storia. Ecco qui al ristorante La Torre un antico menù in relazione alla visita dello zar Nicola II quando venne qui a Raconigi. Vi leggo alcuni passaggi. Si è aperto con un potagé, quindi una minestra della principessa al Prato Verde. E' proseguito con un releve, una terrina di coniglio farcita di vitello e una tartra con funghi trifolati. E' proseguito con un manzo stracotto con salsa madera, un soubrick di patate, un flan di zucchine con pecorino sardo, uno sformato di albicocche fragolato e si è concluso con una coppa sabauda. Direi che si trattavano bene. Beh, si trattavano bene. Un grazie ancora a Carlo Foco. La parola alla pagina dell'arte e della cultura. Buonasera, bentornati alla nostra rubrica di arte e cultura. Siamo qui questa sera con un illustre ospite, il professor Giorgio Barberis, che è professore, docente, artista, critico, giornalista e che sta anche portando avanti un ruolo di insegnamento importante all'Accademia di Belle Arti di Cuneo, di cui adesso gli chiediamo con più, con maggiore precisione. Buonasera cara, un saluto ai telespettatori. Beh, in ordine all'Accademia, io sono, non per tirar fuori titoli, ma visto che Sara ha portato avanti questo discorso... In questo caso sono davvero tanti e numerosi? No, sono concentrati il direttore di compartimento universitario dell'Accademia di Belle Arti di Cuneo, in particolare per quanto riguarda il settore restauro, moda, fashion design. E vedo che la nostra amica ha addosso un bellissimo vestito Liberty, tirato via dalla nonna, giusto? Non che lei l'abbia rubato, però giustamente recuperato. A seguire, nei miei compiti ci sono tantissime altre situazioni, in particolare quelle legate all'arte, quelle legate al territorio, all'arte del territorio, ma anche a quelle che si sviluppa oltre il territorio. Per cui possiamo disquisire a 360 gradi, a seconda di quanto... Adesso veniamo a noi, visto che siamo in questo luogo, che è un paese dalle tradizioni storico-artistiche architettoniche importanti, il luogo del castello di Raconigi, e chiediamo subito al professor Barberis, Giorgio, la tradizione artistica non è svanita, nei secoli anche oggi Raconigi è un luogo d'arte, e ci sono stati maestri importanti, in particolare mi dicevi che avevi il piacere di ricordarne uno. Beh, in particolare sicuramente per quello che riguarda il Novecento, ricordo molto molto volentieri, e giustamente il maestro Carlo Sismonda, che è scomparso l'anno scorso, un grande autore che grazie alla politica, perdonatemi se ogni tanto sono un pochino così scettico e attaccante, alla politica che è stata fatta in Italia sulla questione dei beni culturali, sull'arte, non solo in Italia ma anche in Piemonte, certe volte, ha dovuto valorizzarsi andando all'estero, portando le proprie opere, grazie anche a personaggi come Massimiliano Panero, e come tanti altri che lo hanno seguito, il sindaco di Torre San Giorgio, Raconigi devo dire che non l'ha seguito in particolare, ma è dovuto andare all'estero per tornare vittorioso in patria, ed è diventato un grandissimo personaggio che in questo momento, oltretutto, si vede in archiviazione ufficiale perché le sue opere sono decisamente importanti, ma Raconigi non ha solo questo autore. Ricordiamo con affetto e... Ricordiamo con grande affetto, con grande stima, e la cui ultima mostra di livello internazionale pubblica, questa mostra è stata inaugurata da me, presentata da me a Roma, e davanti a un pubblico foltissimo che gli ha riconosciuto tutto quello che era, e che sarà giustamente il suo background, anche se è scomparso e che rimarrà... Invece mi dicevi che c'è un altro nome, un personaggio, un artista significativo di Raconigi, un artista contemporaneo... Raconigi, sì, Raconigi, forse non so se è l'influenza o l'influsso del castello, del castello o di quella che è la storia che anche tutti conoscono perché Raconigi è un centro importante, culturale, ha degli autori che sono importantissimi, un altro interessante a livello di contemporaneità è Carlo Giordano, che è un autore molto schivo, molto personale, però con una capacità di livello... Lui come carattere schivo... Lui schivo di carattere, ma di livello internazionale... Di qualità artistica notevole... È uno simpaticissimo che possiamo considerare artista o meno artista, vedete un po' che Corrado Garappeggia, che oltre ad essere un parrucchiere, perché mica tutti devono nascere Van Gogh o Ligavue o che si possono presentare i propri lavori sotto qualsiasi aspetto, non è che si debbano avere delle nozioni accademiche per dipingere o per scolpire, anziché avere nozioni diverse. Ognuno produce per sé, per chi lo apprezza o per chi non lo apprezza. Comunque, quest'altro personaggio simpaticissimo, che si chiama appunto Corrado Garappeggia, oltre ad essere un parrucchiere notissimo in racconigi, è anche un bravissimo autore sarcastico ed ironico che si avvicina a Botero per quella che è l'interpretazione della figurazione femminile in particolare ed è inoltre anche un bravissimo musicista che ha una band con la quale... Un personaggio eclettico, insomma. Un personaggio eclettico che fa anche onore, sicuramente un Carlo Sismonda fa molto onore, Giordano Idem, comunque anche lui contribuisce a fare onore a questa bellissima città di Araconisi. Invece io col professor Barberis che è qui e che come molti amici cunesi sanno è una sorta di deus ex machina delle iniziative culturali sul territorio cunese, volevo sapere quali sono i programmi in calendario nei prossimi mesi che lo vedono coinvolto, o che meglio, vedono coinvolto la sua organizzazione sul territorio della provincia grande. Abbiamo due bellissime, un'ottima domanda, ti ringrazio, due bellissime iniziative che passano sotto legida dell'Associazione Culturale Morino che abbiamo creato in nome proprio del pittore Morino nel 2004 perché dovevamo ricordare i vent'anni della scomparsa di questo grandissimo autore saviglianese di adozione anche lui. I prossimi appuntamenti sono uno scambio culturale con il Messico a Caramagna, Piemonte dove ci sarà una bellissima esposizione dedicata a una pittrice messicana che sarà onorata dalla presenza del Consul e dell'Ambasciatore del Messico e delle nostre autorità locali. E poi a Benevagenna, Palazzo Lucerno di Roracchia che sta diventando la sede alternativa di Cherasco Cherasco che è un'altra grande sede importante per quello che riguarda la provincia di Cuneo Benevagenna, Palazzo Lucerno di Roracchia ci sarà un omaggio a due grandi artisti contemporanei che sono Ugo Giletta e Pier Giuseppe Inberti con un catalogo curato da Ida Isoardi notissima critica della nostra zona e dal sottoscritto. Il primo appuntamento, quello di Caramagna in che periodo si svolgerà per dare le giuste indicazioni agli amici da casa? Ecco, il primo aprile cominciamo alle 11 del mattino perché arrivano tutte le autorità c'è anche l'inaugurazione di un monumento dedicato agli Alpini perché quest'anno Caramagna dà grande importanza al movimento degli Alpini giustamente, che è una sezione molto potente a seguire il 15 aprile sempre a Caramagna ci sarà un concorso d'arte, pittura, scultura con tema gli Alpini l'altro appuntamento viene a seguire a Palazzo Lucerno di Rorac di Benevagenna dove già abbiamo ottenuto la transafricana omaggio a De Chirico e via dicendo in seguito verso termine primavera Ringraziamo il professor Barberis per la sua partecipazione le importanti informazioni, gli spunti che ci ha fornito e rinvio l'appuntamento alla prossima settimana Grazie 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 Grazie.